130 giovani in aiuto dell'utenza del pronto soccorso negli ospedali toscani. Si tratta di ragazzi del servizio civile appositamente formati che svolgeranno le figure di accompagnatori, affiancando il personale nell'accoglienza, informando i parenti dei pazienti, dando sostegno e orientamento. Il bando è aperto fino al 14 febbraio. Le informazioni ai familiari che aspettano, l'assistenza e l'ascolto anche delle persone che sono in attesa, fornire generi di conforto magari alle persone stesse, per fare in modo che l'attesa e pronto soccorso non carichi di ulteriore tensione e fatica le persone che naturalmente aspettano di avere notizia dei propri congiunti o aspettano di essere prese in carico dal sistema complessivo. I giovani selezionati, che avranno un compenso di circa 400 euro, saranno collocati nei 38 pronto soccorso della Regione e riceveranno formazione su uso di defibrillatori, sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzazione del sistema sanitario, percorsi assistenziali, gestioni di relazioni e conflitti, accoglienza, utili anche per un futuro lavorativo. Non si tratta assolutamente di sostituire o di surrogare l'attività del personale, quanto quella di affiancarsi ad essa positivamente, diciamo colorando di gioventù i contesti del pronto soccorso. Un ruolo che servirà anche per favorire il contenimento delle aggressioni sanitari, fenomeno purtroppo in crescita, tramite ascolto e attenzione dell'utenza. Grazie. 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 Grazie.